ben trovati a tutti delle spettatori tele nicosia queste le unizie flash provinciali dell'11 giugno curate dalla nostra redazione nicosia preoccupazione per due situazioni che ormai si protraggono da diverso tempo a nicosia il rigido inverno il maltempo e le piogge hanno aggravato alcune situazioni di dissesto in pieno centro urbano da qualche mese una voragine si aperta santa maria di gesù prontamente recintata e monitorata non è stato oggetto di ulteriori lavori gli interventi non dovrebbero però riguardare la sola buca aperta ma il consolidamento di tutto il costone del bel vedere che si affaccia sotto il quartiere mamma figlia e la via sant'anno oggetto negli anni precedenti anche di distacchi e cadute massi che hanno interrotto in alcuni punti la viabilità ben più grave appare la situazione in via li volsi la salita del carmine dove danno il muro di contenimento della villetta comunale appare pieno di crepe e a rischio crollo l'aria è stata recintata ed anch'essa sottoposta a monitoraggio da parte dell'ufficio tecnico comunale ma al di là di queste operazioni non sono stati effettuati altri interventi le crepe aumentano ed il danno è sempre più evidente capizie dei giorni scorsi la notizia che la caserma dei carabinieri dal primo luglio sarà trasferita presso il comune di cerami una perdita di un pesido di legalità ritenuto grave da parte della popolazione capitina il ripiegamento della caserma è dovuto alle pessime condizioni in cui i versi locali che ospite il pesido dell'arma ultimamente il rigido inverno e le piogge hanno reso insalubri locali di servizio in uso al comandante della stazione dei carabinieri e dai militari in servizio costringendo il comando generale dell'arma dei carabinieri a tutela dei propri uomini a lasciare l'edificio ripiegando nella caserma di cerami il promotore del comitato in difesa del territorio capitino l'architetto leonardo principato rosso ex primo cittadino di capizzi contesta l'attuale sindaco l'inerzia degli interventi di riparazione nonostante dal luglio del 2014 siano stati affidati lavori ad una ditta capitina pronta per effettuare la manutenzione della caserma non si fa attendere la replica dell'attuale primo cittadino di capizzi l'avvocato giacomo purrazzo il sindaco ricorda un suo primo intervento nel mese di settembre 2013 attraverso una richiesta fondi alla protezione civile per la caserma dei carabinieri nell'ambito del programma di prevenzione del rischio sismico in sicilia protezione civile assegnò la provincia di messina poco più di 6 milioni di euro capizzi attualmente al settimo posto in graduatoria regionale per l'assegnazione di 510 mila euro per il miglioramento sismico della caserma dei carabinieri il sindaco giacomo purrazzo contesta chi ha governato prima di lui e che oggi si erge a paladino della difesa del territorio di tacere su fatti e circostanze assolutamente favorevole alla comunità e ricorda che non solo non si è adoperato per intervenire sulla caserma ma ha pensato bene di richiedere un mutuo di ben 400 mila euro all'istituto credito sportivo per realizzare un campo di calcetto e anche quest'anno la polizia di stato nell'ambito del progetto il poliziotto un amico in più realizzato in collaborazione con il ministero dell'istruzione dell'università della ricerca e il ministero dell'economia e finanze ha rinomato l'iniziativa di distribuire ai giovani studenti l'agenda scolastica denominata il mio diario in questa provincia a copia del diario per l'anno scolastico 2015 2016 sono state consegnate come da disposizione ministeriali ieri mattina agli alunni delle terze classi della scuola primaria dell'istituto comprensivo statale paolo neglia che si sono distinti nell'ambito della scorsa edizione del concorso l'iniziativa si è svolta nei locali della direzione scolastica dell'istituto con tutti gli alunni delle classi terze alla presenza dei loro insegnanti della polizia di stato rappresentata dal vigario della questura di enna primo dirigente della polizia di stato la dottoressa rosa maria iraci il tema del diario è l'educazione alla legalità e al senso civico è un forte riuscito ad assicurare al pubblico due ore di grande sano divertimento lo spettacolo portato in scena dall'associazione culturale teatrale il conoscersi lo scorso weekend presso l'auditorium buttafuoco di nissoria situazioni strampalate equivoci di verbi esilaranti contrasti verbali hanno caratterizzato questa commedia brillante in due atti che ha portato in teatro le vicende di una famiglia siciliana sui generis alle prese con una divertentissima quotidianità e l'attesa della riscossione di un'eredità con sorpresa finale grande impegno ed ottimo risultato da parte di tutti i componenti della compagnia che incarnando perfettamente lo spirito di leggerezza e divertimento caratteristico del teatro amatoriale non si sono risparmiati coinvolgendo il numeroso pubblico in sale ottenendo grandi e forti consensi con ripetuti applausi a scena aperta e manifestazioni di ilarità leonforte hanno invaso con colori ed allegria il manto verde del nuovo stadio comunale di leonforti numerosissimi bambini appartenenti alla categoria piccoli amici protagonisti della manifestazione calcistica fan football svoltasi a leonforte la scorsa domenica divisi in squadra hanno avuto modo all'interno del campo di dedicarsi a numerose attività fisiche partecipare a brevi partite e giocare con gli altri bambini sulla base dei principi del divertimento e della condivisione che dovrebbero caratterizzare ogni attività sportiva mattinata molto interessante e divertente per i bambini coinvolti dalle numerose società sportive partecipanti della provincia e per i genitori presenti in tribuna momento caratterizzato da alternarsi di varie attività con premiazione finale per tutte le squadre di bambini che hanno ricevuto una medaglia e un attestato di partecipazione e con questo abbiamo concluso appuntamento alla prossima edizione dell'inizio flash curata dalla redazione di telenicosia per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it per le vostre esigenazioni potete scrivere a redazione chiocciolatelenicosia.it un saluto da sergio leonardi mi piace di youtube mi piace di chiocciolatelenicosia per approfondimenti sulle notizie vi c'è chiocciolatelenicosia grazie a tutti Grazie.